Sì, certo. Anche tu puoi avere la tua soddisfazione. Gioca a football americano, vieni a giocare con noi, vieni nella nostra squadra e vedrai che le soddisfazioni non mancheranno. Benvenuti alla seconda puntata di A come Angels. Oggi parleremo di football americano e della partita contro i Braves di Bologna. Seguiteci. Coach Alessandro Angeloni, seconda vittoria stagionale per i Ranocchi Angels, forse più dura del previsto ma anche per degli imprevisti che sono successi durante la partita. Vuoi raccontarci questa vittoria contro i Braves? Sì, la partita anche questa era stata ben preparata. Già avevamo delle assenze dalla scorsa partita importanti, Zito in primis che è fuori per un po'. Però l'avevamo preparata bene, infatti siamo partiti bene. Purtroppo abbiamo perso diversi pezzi strada facendo, anche importanti, e quindi la partita è diventata un po' in salita. Però abbiamo sempre mantenuto il vantaggio e anche quando abbiamo avuto un calo normale dovuto alla fatica e al fatto di non avere in campo i titolari, i ragazzi hanno reagito bene e sono riusciti a riprendersi e a portare a casa la partita. Come si rimedia un infortunio in corsa? Si rimedia con un sostituto che prende in mano la situazione e che si è allenato chiaramente anche in quel ruolo e quindi può entrare al posto di quello che è uscito. Però chiaramente in certi casi è difficile perché noi non essendo in tanti non abbiamo la panchina tanto lunga e quindi i sostituti non ce ne sono tanti. Quindi qualcuno si è dovuto un po' improvvisare in altri ruoli e lì è difficile perché imparare gli schemi al momento con un po' di esperienza si può fare qualcosa, altrimenti è difficile, infatti è stato difficile. Infatti chi si affaccia per la prima volta al football magari vede subito la fisicità. In realtà è un gioco molto tattico, si potrebbe dire quasi una partita a scacchi. Sì, sicuramente la parte tattica è difficile quanto quella tecnica. Sì, è bello fare il placcaggio, la ricezione, il lancio eccetera, ma dietro c'è uno studio delle difese, dei tipi di blocchi, dei tipi di traiettorie da correre. Non è semplicissimo, non è che si può improvvisare, andare lì e fare una traccia, fare uno schema. No, c'è uno studio, c'è un allenamento, ci sono ripetizioni, c'è un timing con tutti gli altri compagni perché vi ricordo che è uno sport di squadra in cui ognuno ha un suo compito che se non esegue nel modo giusto va a rovinare lo schema, quindi non è facile. Avete già un'altra partita, domenica prossima, quindi prima cosa è provare a recuperare qualcuno e seconda cosa è una trasferta che è comunque sempre una cosa nuova in una stagione. Sì, sabato prossimo mi sembra che andiamo a Roma. Sarà dura perché Roma con i Braves ha vinto abbastanza bene. A questo punto i Braves con gli scontri diretti ci sembrano una squadra valida, quindi Roma potrebbe essere anche la più forte del girone, quindi sarà sicuramente dura. Qualcuno spero che lo recupereremo perché effettivamente qualcuno ci serve proprio e quindi sarà ancora più difficile, però chiaramente noi i giocatori hanno talmente tanta voglia e entusiasmo e si allenano con caparbia che riusciremo a inventarci qualcosa. Ultima cosa, un bentornato a Politino che pensavi di non avere, quest'anno invece all'improvviso te lo sei ritrovato. Sì, Politino aveva dei problemi di lavoro e ci aveva salutato, ogni tanto veniva a trovarci come civile, tra virgolette, però invece ha risolto dei problemi e quindi è tornato giusto in tempo per aiutarci in questa situazione con infortuni. Quindi c'è bentornato a lui e ci saranno altri innesti, altri ritorni nelle prossime settimane perché quando il gruppo è ben affiatato e ci si diverte è un po' una calamita per i ragazzi, che si vogliono divertire, vogliono giocare a questo sport, quindi stiamo aumentando di numero invece che diminuire. Grazie. Siamo con Bruno Arcangeloni, il baby del gruppo, oggi i primi punti, quindi non so cosa fa, si portano le paste in spogliatoio, come funziona per festeggiare? Si porterà qualcosa di importante, di gastronomico ma anche di bevande sicuramente. Bisogna brindare a questi primi punti? Esattamente, bisogna brindare. Come è stata l'emozione quando ti sei ritrovato? Sinceramente non me lo sarei aspettato, però comunque è sempre una grande emozione fare dei punti, anche se erano pochi. Senti, tu hai vent'anni, come ci si trova a giocare di fianco a persone che magari potrebbero essere anche tuo padre? Perché ce n'è qualcuno che ha vent'anni più di te. Si può solo imparare, puoi solo capire cos'è giusto fare, ti possono insegnare tante cose. Com'è che sei capitato a giocare a football? Come è arrivata questa occasione, questa opportunità? Io dopo aver smesso calcio andavo un po' in palestra, poi verso l'inizio del 2020 ho iniziato a guardare un po' su YouTube dei video sul football americano e devo dire che mi piaceva molto. Poi c'è stata la pandemia, ma nel frattempo continuavo a guardare, nonostante non si poteva fare niente. Poi un giorno sono venuto qui al campo scuola, non mi ricordo con chi ho parlato, però mi aveva detto chiama a Frank Fabri e parla con lui. Sì, dopo qualche ora l'avevo chiamato e mi aveva detto che ancora con le regole Covid ancora non si sapeva nulla su quando si ricominciava. Quindi hai avuto una gran tenacia, hai aspettato per avere... Sì, io sono una persona molto paziente, quindi diciamo che mi è servito molto. Senti, la vittoria contro i Braves, siete adesso a due su due, insomma un bel inizio di campionato. Assolutamente. È molto meglio dell'anno scorso perché eravamo contati, quest'anno siamo un gruppo più unito e quindi questo vuol dire molto, sia per la squadra, sia per gli allenatori e anche per il presidente. Vuol dire molto anche per chiunque. Bene, complimenti Bruno. Grazie mille. Siamo con Gerry Frazzetto, la colonna degli Angels. Oggi ti sei anche arrabbiato, raccontaci perché. Oggi ero un po' nervoso perché praticamente abbiamo avuto qualche giocatore in meno in questa partita, causa infortuni. Ci siamo dovuti un po' riregolare con gli attacchi e le difese e loro ci hanno sorpreso subito, questa squadra di Bologna, ci ha sorpreso subito giocando molto velocemente le chiamate. Noi non eravamo assolutamente pronti e non riuscivamo ad aggiustarci. Dopo, piano piano, siamo riusciti a muovere bene le pedine e quindi ci siamo giocate bene. Però è stata una partita molto nervosa, onestamente. Probabilmente perché pensavamo di prenderla con un po' più di scioltezze. Però sono stati tutti molto bravi in attacco, in difesa. Un bel risultato ci siamo portati a casa. Sulla carta era più facile, quindi magari forse un po' meno concentrati? Sicuramente. Quello sicuramente. Adesso abbiamo una settimana per lavorare per la prossima partita e ci siamo. Direi proprio che ci siamo. Sapete niente di questa squadra che andate ad affrontare, dei Leggio Roma? Allora, Roma hanno giocato due settimane fa contro i Braves, questi qui di oggi. Quindi abbiamo il loro video. Hanno vinto i Romani, quindi ci dobbiamo preparare proprio molto bene, onestamente. Sarà una bella sfida questa, sì. Qual è il segreto della squadra di quest'anno? Tutti parlano di una grande compattezza nella spogliatoia. Tu sei tornato, forse anche per questo, per vivere questo. Allora, sì, chiaro, questa è la mia famiglia. Tornare qua. Abbiamo un gruppo... Quest'anno è stupendo. Probabilmente io perché l'anno scorso non c'ero, quindi non posso... Però, vabbè. Quest'anno è molto bello, ci stiamo divertendo tanto, ci stiamo allenando soprattutto molto, molto forte. E quindi probabilmente questo è il segreto, che riusciamo a essere in tanti all'allenamento e ci divertiamo. Allenatori italiani, allenatori americani, a questo punto cosa vogliamo dire? Io c'ho un debole per Ale Angeloni, sempre avuto. Per me l'allenatore italiano, Ale, che mi ha cresciuto poi da quando ero nelle giovanili, è speciale. Quindi voto per gli italiani. Grazie, Ger. Prego, ciao a tutti. Siamo con Nabo, un altro dei veterani dei Ranocchi Angels, ma con tanto entusiasmo che sembri un ragazzino. Da dove ti viene questo? Dì, ormai la vecchiaia si sente, si vede anche sulla barba. Però, ascolta, una volta che entri in campo non c'è tocca e conta. Una volta che c'è il possesso della palla o devi bloccare, passa tutto in secondo piano. Butti giù, corri, abbassi il casco e cerchi di fare il più possibile, anche perché dai, giochiamo in una squadra, quindi giovani, vecchi, meno giovani. Perciò si fa tutto, tutto quello che si può fare per cercare di portare a casa il risultato massimo possibile. Che cosa ti piace in particolare della partita di football? Qual è il momento in cui ti senti più elettrico? Il momento è appena la prima azione, la prima azione appena entro in campo, quel momento che sei fresco, hai comunque tutte le energie, cioè lì veramente dai tutto. Cioè dai, dici o la va o mi spacco. Però dopo, dopo man mano giocando, cerchi di dosarti, cerchi comunque di adattarti alle situazioni. E dai, poi un'altra cosa molto bella quando ricevi, da gusto, da gusto. Sto notando che negli ultimi anni mi piace molto anche, molto di più il contatto fisico. All'inizio, quando ho iniziato, ero molto, un po' meno propenso. Però mi sta piacendo da matti prendere palla, correre in mezzo, buttarmi nel casino. Non so se è una cosa positiva, vista l'età, però forse doveva essere il contrario. Dovevo cominciare così e poi evitare il contatto. Però va bene, va bene, finché si riesce a fare, si fa. Questa armatura, correre con l'armatura, è pesante, il casco. Cioè come si fa a non perdere rapidità, portando tutto questo peso? E possiamo sapere anche quanto pesa tutta questa armatura che avete addosso? Guarda, ti dico la verità, sinceramente non l'ho mai pesata. Però posso dirti, una volta che mi metti sul casco e paraspalle e inizia a correre, non ti accorgi. Diventa una seconda pelle. Io perlomeno non la sento. La sento magari la sera o il giorno dopo? Sì, quello che quando la tolgo iniziano a calarmi. Dai, l'adrenalina la sento, però ti ripeto, ormai l'età è quella che è. Anni fa no. Però ti dirò, saremo sui boh 3 kg, penso. Poi più vanno avanti gli anni, più l'attrezzatura diventa. Dobbiamo dire quanti anni hai? No, non possiamo, 38, 38, sono dell'84. Giochi a football da? Ah, da 17 anni ormai, 17 anni, sì. Ho iniziato dopo il primo anno di rifondazione degli Angels e da lì non mi sono più staccato. Non mi sono più staccato. Ormai, come ha detto Gerry, diventa una famiglia, diventa veramente difficile staccarsi, allenamenti, partite, trasferte. Ogni anno diventa più dura giocare, però diventa anche più dura staccarsi dal, diciamo, dai, come si dice? Staccare il cordone ombelicale, ecco, staccare il cordone ombelicale, però sì, finché si può, finché il fisico regge, finché l'amorosa te lo permette, perché per l'amorosa ogni anno è l'ultimo anno e quindi quest'anno dovrebbe essere l'ultimo anno, poi l'anno prossimo vediamo. Staccare fino a 48 anni, stiamo scherzando. L'ho capito, però no, no, dai, finché il fisico regge ci provo, provo a darci tutto. Prego, a voi. E' finita la partita, i Ranocchi Angels vincono 40-18 contro i Braves di Bologna. Una doppia vittoria, una doppia vittoria, perché questa qui era anche il ricordo di Giovanni Ranocchi, il nostro main sponsor. I Ranocchi Angels adesso puntano verso Roma per la terza partita di campionato. Quindi testa a Roma e durante gli allenamenti del martedì e il venerdì i ragazzi seguiti dai coach punteranno a far sì che questa terza partita sia fondamentale prima della pausa pasquale. Quindi seguiteci sui social, seguiteci su Rossini TV. In bocca al lupo a tutti e forza Ranocchi Angels! In bocca al lupo a tutti e forza Ranocchi Angels! In bocca al lupo a tutti e forza Ranocchi Angels!